Siamo con il segretario generale della Federpol, avvocato Roberto Gobbi, al sessantesimo congresso dell'associazione. Avvocato Gobbi, 60 anni di Federpol che vengono festeggiati proprio oggi, come si è evoluta la professione dell'investigatore privato? Dal punto di vista tecnico c'è stata un'evoluzione importantissima che riguarda le attrezzature, le tecnologie che vengono utilizzate dall'investigatore privato. 60 anni fa si facevano i pedinamenti pedestri, oggi ci sono un sacco di sistemi elettronici che ci danno l'ausilio all'attività investigativa. Dal punto invece di vista dell'attività, nel senso delle acquisizioni degli affari dell'investigatore privato, si è passati dalle mere informative, 60 anni fa c'era il genitore che chiedeva al figlio che frequentazioni aveva e via dicendo, oggi è un'attività quasi esclusivamente giudiziaria, cioè tutte le attività che vengono richieste all'investigatore privato in un modo o nell'altro finiscono sui tavoli dei giudici e dei tribunali e questo per noi è motivo di gratificazione. Qual è lo stato di salute della categoria? Ma come tutte le categorie soffre della crisi economica, in dubbio che anche l'investigatore privato ha difficoltà a recuperare i propri crediti, non c'è ombra di dubbio che il costo dell'attività investigativa è un costo anche importante, però molto spesso risolve dei problemi che a livello giudiziario non possono essere risolti altrimenti, quindi ci sono realtà che sono in sofferenza, altre realtà che invece favorevolmente riescono a sopravvivere, con degli adattamenti che sono quelli che può adottare un imprenditore classico. A livello normativo quali esigenze ha il settore secondo Federpol? La nostra normativa sostanzialmente risale al 1931 con il TULS e al 40 con il regolamento, per cui c'è un bisogno assoluto di normativa, c'è un bisogno assoluto di inquadrare l'attività, le leceità dell'attività posta in essere dall'investigatore privato che lo ricordo è un'attività socialmente utile perché oggi se io ho una moglie infedele o un lavoratore infedele che quindi mi distrae delle risorse o mi danneggia non ho altri strumenti che se non quelli dell'investigatore, quindi l'investigatore pur facendo un lavoro socialmente fondamentale oggi per questa società ha bisogno di una normativa vera, oggi la normativa non c'è e quindi bisogna crearla dall'inizio.